In magazzino restano solo 7.000 dosi di AstraZeneca e poco meno di 40.000 vaccini Pfizer. Da un lato la campagna vaccinale della regione Puglia, giunta ad oltre 1.180.000 somministrazioni, terzo posto assoluto in Italia dietro Marche ed Umbria, dall'altra parte la carenza dei vaccini stessi. Se fosse una partita a scacchi, la Puglia sarebbe sotto scacco dei rifornimenti. Ad oggi le dosi sono quasi del tutto esaurite ed allora la regione è costretta ancora una volta a riprogrammare i piani. Al momento è stato utilizzato quasi il 93% delle fiale a disposizione. Le scorte restanti sono nulla se si pensa che la regione Puglia nei prossimi due giorni manterrà una media di somministrazioni di circa 27.000 al giorno. Oltre non sarebbe possibile. Già posticipate le inoculazioni per i pugliesi tra i 69 e i 60 anni, tutte le ASL stanno riprogrammando i propri piani. A partire dal 3 maggio la priorità sarà data ai soggetti fragili e agli over 80 frenata anche per caregiver e familiari conviventi di soggetti vulnerabili. Solo uno di essi infatti verrà vaccinato per ogni nucleo familiare. Le consegne proseguono a singhiozzo ma domani è previsto l'arrivo in Puglia di altre 146.000 dosi Pfizer. A tal proposito l'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco ha spiegato che sul vaccino dell'azienda tedesca ci sono molte più certezze rispetto a prima mentre ne arrivano meno sul fronte AstraZeneca, quest'ultima al centro del dibattito politico europeo a causa dei nuovi ritardi nelle consegne. Un tema che preoccupa la regione poiché a breve inizieranno i richiami di insegnanti e forze dell'ordine che hanno ricevuto il farmaco anglo-svedese. Sul fronte ASL l'azienda sanitaria locale di Bari ha fatto sapere che nella provincia barese la più colpita dalla pandemia in Puglia oltre il 22% della popolazione residente è stata immunizzata con almeno la prima dose in linea con la media nazionale mentre la ASL BAT ieri ha somministrato oltre 2.000 dosi in 24 ore ma nei prossimi giorni a causa della carenza di vaccini il programma inizialmente previsto subirà variazioni. Infine la protezione civile regionale ha ricevuto le candidature di oltre 2.000 volontari pronti a dare il proprio sostegno alla campagna vaccinale. Tra i candidati ci sono anche medici, infermieri, os e assistenti sanitari. Nei prossimi giorni i reclutamenti mentre la regione si prepara alla vaccinazione della fascia di popolazione cosiddetta produttiva nelle aziende si punta alla seconda metà di maggio.